Va bene, allora, intanto io vi ringrazio dell'ospitalità e per l'occasione di presentare il lavoro che abbiamo fatto qui a Pisa presso la Biblioteca Serantini. E la prima domanda che voglio rispondere è proprio perché questa ricerca, da che cosa è nata e perché abbiamo deciso di pubblicare questi tre toni. La ricerca nasce da un impegno che abbiamo preso con chi ci ha consegnato le carte dei GAP nel lontano 1994, cioè con Piercarlo Massini. Nasce e ci è voluto molti anni perché il materiale è tanto e per sistemarlo non è stato semplice, anche se è arrivato con un certo ordine. E poi perché c'era la volontà testamentaria di Massini di renderlo pubblico dopo il 2008. Abbiamo pensato che di fronte a una mola di circa 10.000 documenti complessivi fra lettere, circolari, eccetera, di fare una selezione critica per presentarla al pubblico e dare uno strumento di riflessione sulla storia dell'anarchismo nel suo complesso nel secondo dopoguerra. Perché come vedete già da questa prima slide che ho messo, il problema dei GAP va inquadrato nel più generale problema della crisi dell'anarchismo nella seconda parte del Novecento. Noi siamo abituati a raccontarci la storia dell'anarchismo, la narrazione dell'anarchismo, parlando dei tempi eroici, di quando Malatesta dominava la scena, di quando il movimento aveva una sua popolarità, pur essendo una minoranza aveva una sua popolarità. Tanto che appunto nel 1919 si costituisce per la prima volta su un piano nazionale, in maniera abbastanza corposa, un'organizzazione politica degli anarchici, cioè l'Unione Comunista Anarchica Italiana, che poi prenderà il nome di Unione Anarchica Italiana. E pochi mesi dopo, all'inizio del 1920, viene fondato un quotidiano anarchico, Umanità Nova, di cui quest'anno appunto ricorre il centenario. Già questo ci dice che l'anarchismo è stato, in un'altra epoca, dalla storia del nostro paese, della storia del movimento operaio, un dato fondamentale dell'evoluzione di questo movimento operaio, nato appunto con la prima internazionale negli anni 70, eccetera, eccetera, dell'Ottocento, e che ha avuto una sua ramificazione e presenza sul territorio. Ma nel secondo dopoguerra, per quanto rimanessero tracce molto visibili e anche consistenti in alcune zone, l'anarchismo non è più quello del prefascismo, è qualcosa di diverso, è qualcosa che si gonfia all'inizio ma si sgonfia velocemente subito dopo e non riesce a essere più protagonista, soprattutto non raggiunge i suoi obiettivi principali. L'anarchismo è un movimento rivoluzionario che si pone alla trasformazione di questa società e da 1945 in poi non riesce più a sviluppare, diciamo, un proprio progetto rivoluzionario, coerente e incisivo. Rimane ai margini, diventa una minoranza nelle minoranze e lo si è visto, noi tutti veniamo più o meno da quell'esperienza, abbiamo bazzicato, lo si è visto negli anni, in diverse epoche. Non solo. Ma al suo interno ha subito non solo la crisi dei gap, ma prima della Federazione Libertaria, poi negli anni 60 la spaccatura fra Fai e Gia, poi negli anni 70 la spaccatura con i gruppi neo-ercinovisti, alla fine degli anni 70-80 con la Costituzione dell'Unione Sindacale Italiana e via di questo passo, si è visto sempre più ridurre, non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche dal punto di vista qualitativo, sul piano dell'elaborazione teorica, eccetera. Ma questo nasce da che cosa? Nasce da una sconfitta politica e militare avvenuta negli anni 20 e 30. La prima guerra mondiale è ancora un movimento forte, ma che di lì a pochi anni viene sconfitto, almeno in Italia ma anche nel resto d'Europa, sia politicamente che militarmente dall'avvento dei totalitarismi, in Italia del fascismo che è un totalitarismo, dice, reazionario, contro-rivoluzionario, che disarticola il movimento, gli toglie la possibilità di organizzare, gli impedisce, gli chiude i giornali, costringe i militanti a fuoriuscire dall'Italia, a fuggire, molti verranno arrestati e passeranno anni al confino. Questo porta a una crisi, perché? Non solo dal punto di vista organizzativo e politico, ma anche dal punto di vista teorico. Fino a quel momento l'anarchismo aveva elaborato la propria proposta, avendo di fronte che cosa? Delle monarchie costituzionali o assolutistiche, in alcuni casi come la Russia o in altre, ma con regimi di tipo liberale, che pur avendo un sistema autoritario erano comunque regimi, tra virgolette, liberali. Il fascismo si presenta come un movimento autoritario, ma di natura diversa. Lo Stato liberale è diverso dallo Stato etico fascista. L'anarchismo, che ha una griglia interpretativa per leggere il fenomeno non solo statuale, ma anche di tipo economico, che è legato ovviamente, ha difficoltà in quel contesto a leggere cos'è il fascismo. Solo alcuni intellettuali o militanti riusciranno a comprendere all'inizio alcune novità del fascismo, la capacità del fascismo, pur essendo un regime violento e autoritario, di crearsi consenso, l'uso mediatico di media e via di questo passo. L'organizzazione punto etica dello Stato, sono Berneri, Fabri, in parte anche Malatesta, che comprendono alcune novità, ma la gran parte del movimento libertario non comprende questo nuovo fenomeno. Come non comprende subito neanche il fenomeno del totalitarismo rosso, cioè di matrice rivoluzionaria, cioè quello che si afferma negli anni venti in Russia e che poi prenderà forma nello stalinismo. Sono fenomeni complessi di cui l'anarchismo subisce non solo fisicamente con l'incarcerazione e la persecuzione dei propri militanti, ma subisce anche dal punto di vista del bagaglio teorico, della sua capacità teorica di comprendere questi fenomeni. Tant'è che in quel periodo ci sono dei grossi sbandamenti sul piano teorico. C'è una corrente internazionale, ma che in Italia ha anche molti seguaci, di anarchici che diventano comunisti, cosiddetti anarcho-boluscevichi. Ma come sappiamo benissimo che anche all'interno del fascismo ci sono elementi che provengono dall'anarchismo. Questo porta a una crisi dell'anarchismo, a una sua sconfitta, che è parallela poi a una sconfitta del movimento operaio internazionale, che poi avrà il suo culmine durante la guerra civile spagnola. Quando l'anarchismo si presenta, nei primi anni 40, sulla scena della seconda guerra mondiale, è un movimento perseguitato, ha una sua diaspora, soprattutto quella italiana in mezzo mondo, fortemente indebolito, con i principali leader scomparsi, perché Manatesta muore nel 1932, Fabri del 1935, Bernieri che era una promessa muore nel 1937 e sappiamo come, per cui con la carenza di quadri importanti, con un forte arretramento dal punto di vista politico e ideologico, teorico. Partecipano sì gli anarchici alle vicende della Residenza, ma in ordine sparso, non tutti sono convinti della bontà di quella scelta, alcuni stanno fuori da quel contesto, per varie ragioni che non sto qui a spiegare, altri vi partecipano, spesso inquadrate in formazioni che non hanno nulla di rivoluzionario. Addirittura c'è una componente del movimento libertario, negli Stati Uniti non solo, che appoggia l'alleanza contro il nazifascismo, cioè come male minore. Ci schieriamo con gli alleati. Questo porta a un grosso disorientamento dal punto di vista politico, tant'è che in Italia assistiamo a dei fenomeni strani. Tra il 44 e il 46 noi abbiamo nelle zone liberate sindaci anarchici, sindaci anarchici con doppia tessera. Partito Comunista è anarchico, Partito Socialista è anarchico, consiglieri comunali, nella tanto gloriosa Carrara abbiamo due assessori e diversi consiglieri comunali e viene questo passo. Per un movimento rivoluzionario che aveva l'idea di abolire lo Stato e il capitalismo, non mi sembra che questa sia una dimostrazione della propria vittoria. E' una testimonianza di presenza eccetera. Certo, qui vedete quella foto molto bella del Politeama di Carrara nel 45 con questo Politeama strapieno di militanti in questo famoso congresso di Costituzione della Federazione Anarchica Italiana. In quel momento l'unica organizzazione sul piano nazionale che raccoglieva quasi il 90%, forse il 95% di tutti i militanti libertari sopravvissuti a vent'anni di fascismo, in quel famoso congresso dove fra i delegati osservatori c'è Sandro Pertini che rappresentava la direzione del Partito Socialista, ma in realtà in quel congresso già ci sono tutti gli elementi che poi si manifesteranno di lì a pochi anni della propria debolezza, della propria crisi. Questa crisi si paventa subito dopo neanche un anno, cioè la prima scissione dopo pochi mesi da quel congresso, con la costituzione di una federazione libertaria italiana. Ora non sto qui a fare la storia della federazione libertaria italiana e come finisce, però è l'indice di qualcosa che non va, non va per vari motivi, non solo appunto interni del movimento, ma anche esterni. Il quadro internazionale e il quadro strutturale della società è profondamente cambiato rispetto a vent'anni prima. L'anarchismo come referente negli anni d'oro, cioè fra 8 e 900, sul piano sociale diventa popolare attraverso una figura sul piano strutturale del sistema produttivo italiano che è l'operaio di mestiere. L'operaio di mestiere che ha fatto grande la stagione dell'anarcho-sindacalismo e del sindacalismo d'azione diretta, nel 1945 non esiste più, se non in minima parte, in maniera marginale, eccetera. L'operaio di mestiere derivava dai vecchi artigiani, dai vecchi classi artigiane ottocenteschi. L'operaio di mestiere viene sostituito attraverso un'operazione che dura più di 30 anni dall'operaio fordista, cioè dall'operaio della catena di montaggio. Che è un'operaio molto diverso dal punto di vista, chiamiamosi antropologico, sociologico e anche dell'organizzazione del lavoro. L'operaio della catena di montaggio non ha la stessa cultura del lavoro che ha l'operaio di mestiere. Non ha una propria identità, una propria coscienza dal punto di vista del proprio ruolo nel contesto della società. Non fa parte di una comunità, tra virgolette. È semplicemente un numero all'interno della grande sistema, della moderna fabbrica. L'operaio fordista è un'operaio che come modello si adatta in diverse situazioni. C'è in Europa, c'è negli Stati Uniti dove nasce, ma c'è anche nell'Unione Sovietica. Gli anarchici nel secondo dopoguerra non riescono a comprendere questa metamorfosi, questa trasformazione. I GAP saranno alcuni elementi dei GAP, come dire, avranno un'intuizione su questa trasformazione, ne parleranno sul loro giornale, ne discuteranno, eccetera. Però in quel contesto no. In quel contesto c'è il rifiuto di questa situazione, la mancanza di una lettura chiara. L'operaio fordista era stato al centro delle grandi organizzazioni sindacali autoritarie, sia di tipo fascista e nazista, ma anche delle democrazie occidentali, come dei modelli sindacali in Unione Sovietica. Era un operaio fortemente irrigimentato, all'interno di una piramide gerarchia ben precisa. Quando i sindacati si costituiscono di nuovo in Italia, nel 44, con il famoso patto di Roma, i sindacati che si costruiscono sono molto diversi rispetto a quelli del prefascismo. Noi sappiamo benissimo che il patto di Roma costruisce un sindacato che è in realtà un pezzo, diciamo, di una diramazione dell'influenza dei partiti politici, un'influenza molto maggiore rispetto a quella che c'era prima. Il patto di Roma, che costituisce la CGL, divide la CGL in sfere di influenza, comunisti, socialisti, azionisti, democristiani, eccetera. Gli anarchici in questo sono completamente spiazzati, e nasce nell'anarchismo di allora un forte sentimento antisindacale. certamente con delle ragioni, ma spesso diventa pretestuoso e moralistico. Ed ecco una delle ragioni perché gli anarchici in quel periodo rifiutano in gran parte di essere presenti nei sindacati. Mancanza di essere presenti nei sindacati significava mancanza anche di presenza nella classe operaia. e possibilità di rinsaldare il rapporto che c'era stato in passato fra l'anarchismo, che comunque è un'avanguardia, comunque la si chiami, e le masse proletarie. In più c'è da dire un'altra cosa. La stragrande maggioranza dell'anarchismo di quegli anni, almeno in Italia, era composto da militanti che stavano uscendo dal ciclo produttivo, per età. Militanti che avevano ormai più di 50-55 anni, quasi 60, molti 70-80. La componente giovanile era molto minoritaria e comunque non aveva capacità propositive o leader capaci di imporsi. Chi domina in quel momento l'anarchismo come generazione è una generazione che esce da 20 anni di fascismo, profondamente provata, molto nostalgica rispetto al proprio passato, perché è normale, umano, ma fortemente, diciamo, estranea ai processi di trasformazione nel mondo del lavoro, perché si sta estraneando da quel mondo, sta andando, tra virgolette, in pensione. Poi sappiamo benissimo che le pensioni dell'epoca erano della fame, ma comunque questa era la condizione. Se ci mettete poi che il principale leader che rientra in Italia, ma molti anni dopo, e che aveva avuto un'esperienza come dirigente sindacale, che è Armando Borghi, da posizioni appunto parasindacali, degli anni dell'età giolittiana, poi degli anni della Prima Guerra Mondiale, era passato su posizioni tutt'altro, diciamo, di netto rifiuto dell'agire nel mondo sindacale, nel mondo operaio, con una posizione fortemente anti-organizzativa e anti-sindacale. Lo dice subito Borghi, è molto chiaro in questo, lo dice già nel 43-44, non si deve ricostituire l'usi, gli anarchici non hanno nulla a che fare con i sindacati, non ci devono andare, devono pensare solo a loro stessi. Di fronte a questa situazione, di fronte a questa situazione, la dinamica che porta alla nascita dei GAP è una dinamica in nascita a questa crisi, cioè nel momento in cui all'interno della Federazione Anarchica Italiana, tra il 46 e il 49 si manifestano difficoltà di capacità di fare proselitismo, cioè di capacità di fare nuovi militanti, nuovi gruppi, di radicarsi sul territorio, nel momento in cui i grandi partiti della sinistra dell'epoca, cioè il Partito Comunista e il Partito Socialista, incominciano ad attirare nelle loro file sempre più ex militanti anarchici. Basta sfogliare le memorie dei borghi e racconta come quanti ex anarchici incontra per le strade di Bologna, della Romagna, della Lombardia o del Lazio. Quando appunto si comincia a intravedere un maggiore indirbillimento del movimento anarchico un gruppo di giovani guidati da un giovane che aveva un livello culturale molto elevato rispetto agli altri, perché per Carlo Massini si era appena laureato nel 45-46, incomincia a porre alcuni interrogativi, incomincia a domandarsi del perché di questa crisi, comincia a cercare di trovare delle risposte a questa crisi. Ovviamente queste le risposte non le trova solo nel riproposizione di un anarchismo classico, cioè se voi prendete i giornali dell'epoca anarchici, spesso e volentieri riempivano le pagine con i testi elaborati 50-70 anni prima. Lui non vuole questo, assolutamente. Lui dice noi dobbiamo elaborare una nostra dottrina, una nostra teoria, dobbiamo capire come va il mondo, dobbiamo dare delle risposte alle crisi e dare delle prospettive. E questo è il primo tassello che fa scattare l'aggregazione di questo gruppo di giovani, che poi vedremo dal punto di vista generazionale, culturale e politico da dove vengono. C'è da dire anche questo, che da una parte c'è una reazione rispetto alla crisi per tutto ciò che sta accadendo all'esterno, tutto quello che sta accadendo nella società italiana, la grande attesa del rinnovamento del paese che viene prontamente delusa dall'elezione del 48, dalla vittoria della democrazia cristiana, dal ripristino di un ordine statale che fino a poco prima si era visto quasi dissolversi, dal reintegro nell'apparato dello Stato di molti ex fascisti, dalla ricostruzione di un partito neofascista. Questa delusione è tutto ciò che ci sta all'esterno. Poi c'è una delusione interna. Questi giovani, che come tutti i giovani all'inizio sono vogliosi di fare e che erano un certo numero, si accorgono che coloro che hanno in mano gran parte degli organi dell'anarchismo, i principali rivisti e giornali, hanno un approccio sui problemi sociali che li porta a distanziarsi dalla realtà, li porta a chiudersi in se stessi, li porta a una scelta di rifiuto dell'agire politico, di rifiuto dell'agire nel movimento operaio, di rifiuto di porsi i problemi sul piano teorico, perché tutto ciò è visto come corruzione in una propria idealità. questo confronto che avviene tra questi gruppi di anarchici e i giovani che si aggregano intorno a Percano Massini avviene nell'arco di due o tre anni, diciamo, dal congresso di Bologna, passando per Livorno e arrivando ad Ancuna nel 50. il gruppo maggiore che guidava questa, diciamo, antipolitica, come scelta di vita e di stile dell'anarchismo, era il gruppo intorno alla rivista Volontà, che teorizza un anarchismo di tipo esistenzialista, un anarchismo come scelta individuale, vissuta in piccoli gruppi, come comunità totalmente avulse dal contesto sociale, totalmente fuori, con nessuna propensione a interagire con il resto della società. Questo perché garantiva una maggiore, diciamo, possibilità di difendere l'integrità del patrimonio teorico dell'anarchismo, dell'idealità dell'anarchismo. Tant'è che diventano l'oggetto di scontro con il gruppo di Masini, che poi successivamente gli dedicherà proprio un pamphlet, resistenzialismo, lo vedremo dopo. Questo, sul piano proprio operativo, sia questi gruppi di giovani che erano all'interno della FAI, sia la redazione Volontà, che in quel contesto agiva all'interno della FAI, la FAI era di fatto, più che un'organizzazione, era un movimento, si confrontano a Livorno, al terzo congresso della FAI nel 49, è uno scontro molto duro, personale, dove viene, il congresso dal punto di vista teorico e dal punto di vista delle proposte, è molto povero. Si trascina per alcuni giorni in un nulla di fatto, se non è quello di manifestare delle posizioni contrapposte, molto lontane una dall'altra, delle visioni molto diverse. Allora, resistenzialismo, un piano di sconfitta, è il documento che il gruppo che sta costituendo i GAP, ma che ancora non si chiamano GAP, ma si chiamano Prima Comitato Interregionale Tosco-Laziale, poi si chiamerà successivamente, nei primi mesi del 50, un coordinamento per un movimento orientato e federato. il primo documento che esce di critica di questa componente, diciamolo così, appunto, legata alla relazione delle volontà è questo documento resistenzialismo a piano di sconfitta. Loro, appunto, contestano il fatto che non si può non fare politica, non si può non agire nel movimento operaio, visto che l'anarchismo è una parte fondamentale della storia del movimento operario, che l'anarchismo in quanto movimento sociale nasce con la Prima Internazionale. Tutto il resto è filosofia, tutto il resto è storia delle idee, quello precedente, ma come movimento che ha agito, che ha agito nei sindacati, che ha agito come organizzazione, è quello, ha un'impronta socialista, non liberale, non di altro genere. E loro rivendicano questo, lo scontro avviene su questo. è uno scontro, e qui vi voglio rispondere a una delle prime domande, molto forte, che lascerà anche amicizie, lascerà anche rapporti personali. Tenete conto che Piercarlo Masini all'epoca, quando avviene questo scontro, era stato chiamato a Roma alla redazione di Umanità Nova. Ci sta per quasi 18 mesi a fare il redattore di Umanità Nova. E tenete presente che quando Masini lavora alla redazione di Umanità Nova vuol dire che lui correggeva tutti i testi, perché gli arrivavano testi spesso di persone che erano autodidatte. Insomma, si è fatto un discreto mazzo. Lui diventa l'obiettivo principale di quella componente che ostacola la formazione di una FAI politica perché viene considerato un intellettuale. Nel movimento all'epoca c'era un forte corrente anti-intellettualista che rifiutava qualsiasi approccio di ambito appunto intellettuale e teorico. E all'interno della FAI i personalismi che sono sempre stati di casa diventano diciamo un'arma per cercare di eliminare il proprio avversario. Ora non sto qui a raccontare i pettegolezzi di quello che è successo all'epoca ma vi potete rendere conto la pressione psicologica e anche fisica a cui viene sottoposto Piercarlo Masini compresi gli giovani che intorno a lui si stavano muovendo per un rinnovamento della FAI. All'inizio Masini non pensava di uscire dalla FAI lo costringono a uscire dalla FAI se vogliamo essere formali i gruppi che poi daranno vita ai GAP non hanno mai dichiarato la propria uscita dalla FAI sono semplicemente stati allontanati al congresso di Ancona nel senso che al congresso di Ancona viene fatta una mozione in cui si mette alla porta e basta. Detto questo andiamo a cercare di capire chi sono però questi giovani che si muovono all'interno dell'ipotesi che Masini sta proponendo la cosa interessante è che i GAP fin dall'inizio poi vi spiegherò ancora meglio nel dettaglio sul problema del concetto di organizzazione sono una minoranza una piccola minoranza tenete conto per darvi un'idea di cos'era l'anarchismo all'epoca Umanità Nova aveva una tiratura che andava intorno ai 10-12 mila copie e ciò vuol dire che più o meno l'anarchismo poteva contare su 4-5 mila lettori grosso modo di questi 4-5 mila lettori circa 3 mila potevano essere considerati tra virgolette militanti il gruppo di Masini che si va coagulando in questo periodo è un gruppo composto da circa 100 militanti più o meno siamo in quell'ordine lì e più o meno rimarrà di questa dimensione negli anni a venire consideriamo che tutte le minoranze rivoluzionali all'epoca erano vere proprio piccole minoranze non erano movimenti paragonabili a quello che era stato prima del fascismo sia per l'anarchismo che per altre componenti c'erano due partiti egemoni nella sinistra che era il partito comunista e il partito socialista che emarginavano qualsiasi frazione qualsiasi corrente era difficilissimo far politica in quegli anni anche perché erano anni duri dal punto di vista per esempio della polizia sono gli anni di scelva non era facile fare attività politica all'esterno né tantomeno davanti alle fabbriche erano anni molto duri anche per la crisi dell'Italia sul piano economico non siamo negli anni del boom economico non siamo negli anni della grande ripresa gli stipendi lì sono da fame insomma si muore anche per l'acqua racconta anche l'impulso qualche anno dopo per una rivolta in Sicilia interessante è capire invece come come si aggregano allora da un punto di vista sociale di estrazione sociale questo gruppo che si va formando è un gruppo in gran parte composto da operai e salariati con una piccola minoranza diciamo di intellettuali qui vi ho fatto vedere vedete qui sui 235 militanti che ho censito che fanno militanza nei GAP tra il 1949 e il 57 questi sono i dati che noi abbiamo riferiti la componente operaia è una componente importante e loro lavorano molto per questo l'altro dato importante è la provenienza la gran parte della provenienza viene dal mondo anarchico ma non solo dal mondo comunista e da altri minori diciamo componenti l'altra cosa importante è che il nucleo principale di questa componente cioè quella parte diciamo più giovanile quella nata negli anni 20 ed è educata sotto il fascismo ha fatto un'esperienza importante come scelta appunto antifascista nella resistenza sono militanti che loro prima la loro formazione politica l'hanno maturata durante la resistenza in gran parte fuori dal contesto classico di formazione politica di militanti in cui erano abituati gli anarchici precedentemente la resistenza è un fenomeno nuovo non propriamente paragonabile a quello che succede in Spagna è qualcosa di diverso soprattutto perché questi militanti mentre in Spagna abbiamo militanti che vanno e che hanno già una formazione politica acquisita prima qui sono militanti che arrivano alla resistenza spesso per la sopravvivenza e lì si formano una cultura politica e da lì arrivano all'anarchismo per varie strade per cui abbiamo una componente importante che si farà sentire negli anni non è una componente indifferente lo vedete qui in questo grafico sulle fasce generazionali come la fascia di quelli nati tra 1920 e 29 è maggioritaria nettamente maggioritaria anche se è presente poi una fascia di militanti più anziani perché in questa formazione di questo gruppo non ci sono solamente giovani ci sono alcune figure significative di militanti già formati prima del fascismo che vi aderiscono che hanno anche un ruolo non indifferente l'estrazione sociale l'abbiamo detta è quella dell'operaria in gran parte questa è la curva diciamo dell'organizzazione negli anni ora vedete sono numeri molto piccoli ma attenzione loro non fanno proselitismo per ingrossare le file in senso lato loro si ritengono un'organizzazione di quadri cosa significa questa è poi è la mappa geopolitica della dei GAP vedete sono concentrati nel centro nord Italia con alcune appendici importanti in Sicilia e qualche presenza anche in Puglia in Campania la concezione della loro organizzazione non è una classica organizzazione di sintesi come l'abbiamo sempre conosciuta in passato come era formulata da Malatesta e approvata da Fabri per dire come era strutturata l'unione anarchica italiana l'organizzazione che loro hanno in testa è un'organizzazione di quadri preparati che è ovviamente derivazione gramsciana soprattutto più che l'edinista in quegli anni loro fanno un grosso lavoro nel tentativo di recuperare una parte del pensiero di Gramsci in una chiave di lettura comunista libertaria sono gli anni in cui per la prima volta vengono pubblicati le opere di Gramsci opere che erano dirette da Palmiro Togliatti e loro contesteranno questo tipo di lettura che Togliatti dà di Gramsci tenete conto che all'interno dei GAP c'è un gruppo di torinesi di operai torinesi che ha partecipato in parte all'esperienza dell'ordine nuovo all'esperienza dei consigli di fabbrica ha una grossa tradizione alle spalle nel movimento operaio ha conosciuto Gramsci per cui c'è un rapporto Masini che studia Gramsci deriva da Gramsci questa concezione dell'organizzazione di quadri dove i militanti vengono diciamo immaginati come degli intellettuali intendiamoci degli intellettuali non nella funzione borghese ma nella funzione rivoluzionaria ed è per questo che i GAP non tenderanno mai a crescere sul piano quantitativo ma cercheranno di essere una minoranza agente orientata dal punto di vista omogenea dal punto di vista teorico il processo per arrivare a questa omogeneità la cosa interessante non avviene attraverso un processo tipicamente autoritario di partito avviene attraverso un processo federalista perché loro all'interno avevano una discreta democrazia chiamiamolo così libertaria poi possiamo dare tutte le interpretazioni che vogliamo al termine democrazia quando arrivano a formulare la loro proposta organizzativa che darà forma ai GAP cioè nella prima conferenza nazionale di Genova Ponte X del febbraio del 51 questa è ovviamente una risposta alle decisioni del precedente congresso della FAI che le aveva praticamente espulsi dalla FAI l'aveva messo al bando loro costituiscono i gruppi anarchici d'azione proletaria con questo progetto dandosi una carta di principi e una carta di intenti che poi è definita nelle tessi sulla liquidazione dello Stato tessi che vengono scritte da Masini con il supporto di Cervetto Masini dà a Cervetto indicazioni su cosa deve scrivere Cervetto elabora la propria parte in queste tesi tenete conto che in quel momento Cervetto che è un operaio dipende totalmente da Masini dal punto di vista degli strumenti conoscitivi della teoria e della prassi del movimento operaio e rivoluzionario è Masini che fornisce libri Masini che dà le indicazioni che forma Cervetto poi Cervetto ci mette del suo è un grande appassionato studioso pur essendo un operaio e si mette a studiare testi di economia testi di politica di sociologia è un grande lettore queste tesi sono danno l'impronta ai GAP e la daranno per tutti i successivi sette anni attenzione i GAP hanno sempre dichiarato di essere anarchici comunisti comunisti libertari ma mai hanno dichiarato nei propri documenti sul piano ufficiale di essere dei marxisti o leninisti non c'è una dichiarazione in tal senso è chiaro che l'approccio di Masini nel tentativo di elaborare una nuova dottrina rivoluzionaria è quello di un approccio che tiene conto non solo la tradizione anarchica ma anche la tradizione di componenti importanti del socialismo rivoluzionario in particolare i consigliaristi da una parte Rosa Luxemburg dall'altra in funzione antileninista e appunto Gramsci questa prima elaborazione le porta a formulare nel primo anno di vita cioè nel 1951 la prima campagna nazionale che loro fanno quella per il terzo fronte internazionalista e questo è un momento importante perché sul piano del studio dell'economia fino a quel momento l'anarchismo aveva diciamo lasciato il passo agli altri nel senso che nel secondo dopoguerra nessun anarchico aveva tentato un approccio un'analisi di quelle che erano le tendenze economiche mondiali loro cercano di cercare di leggere diciamo i nuovi equilibri mondiali sul piano economico usciti dalla seconda era mondiale e le leggono come una espansione ulteriore dell'imperialismo così come era stato formulato da Lenin ma anche dalla stessa Luxemburg ma anche da Bukharin per dire dei nomi noti che hanno ragionato su queste sulla teoria dell'imperialismo e del suo sviluppo individuando però una nuova fase dell'imperialismo uscito dalla seconda guerra mondiale come fenomeno unitario e indivisibile espressione sì delle contraddizioni dell'organizzazione della società internazionale anche con degli antagonismi interni però unito nel suo processo di accumulazione e questo valeva sia per l'Unione Sovietica che per gli Stati Uniti sono loro che elaborano in Italia tra i primi un approccio all'analisi dell'economia sovietica in parte derivato ovviamente dalle letture di Bordiga che in quegli anni stava elaborando diversi testi sulla natura dell'URSS come Stato a capitalismo di Stato appunto all'epoca in gran parte della sinistra sia socialista che comunista l'Unione Sovietica era considerato uno Stato socialista autoritario dittatoriale ma uno Stato socialista i primi a formulare in base a un'analisi economica nel campo sviluppo anarchico in quegli anni l'idea che la natura dell'URSS non fosse affatto socialista ma fosse capitalista attraverso appunto i dati economici sono loro e saranno coerenti cioè nei sette anni successivi continueranno a studiare l'Unione Sovietica e la sua economia dando un contributo secondo me non secondario poi noi siamo stati abituati negli anni settanta ottanta ad apprendere in parte magari in maniera molto volgarizzata questo concetto di capitalismo di Stato però all'epoca non era comune trovarli nelle avanguardie e nelle intellettuali detto questo loro fanno questa campagna che ha un certo tra virgolette successo diciamo sempre considerando i numeri che avevano loro hanno un giornale che avete visto l'impulso che esce con regolarità quasi sempre fatto dal buon per Carlo Masini ma con contributi anche di molti altri militanti poi negli anni si rafforzerà l'impulso ha una diffusione per l'epoca non grandissima però arriverà a tirare anche a volte 2000 copie a circa 450-500 abbonati però è un giornale che viene letto e discusso nelle varie componenti lo leggono i trotschisti lo leggono i bordighisti lo leggono i socialisti che escono dal Partito Socialista e formano il movimento dei lavoratori italiano quelli di Cucchi e Magnai o gli ex comunisti è un giornale discusso e ha una sua diffusione quando cosa succede alla terza conferenza perché ho messo questa foto della terza non solo perché la foto dove c'è scritto terza conferenza è molto bella ed è rappresentativa di quello che era il gruppo maggiore dei GAP perché a Livorno succede qualcosa di nuovo rispetto agli anni precedenti i GAP fino alla primavera hanno tentato di mantenere un rapporto con l'area della FAI hanno chiesto di poter partecipare come osservatori al congresso di Civitavecchia Borghi che è rientrato si è nettamente opposto come si è opposto Gigi Damiani a questa loro presenza la delegazione dei GAP viene messa alla porta del congresso e c'è una netta chiusura non ci si vuole confrontare si ritengono i GAP una deviazione una 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 eresia bolshevica non vi dico gli epititi che scrivono ma insomma sono tantissimi c'è chi dice che i GAP sono pagati da togliatti c'è chi dice che sono pagati dai servizi segreti dell'Unione Sovietica chi dice dagli americani insomma le dicerie sono tante sono tante le dicerie che a volte il Ministero dell'Interno le prende per buono e scrive nei propri rapporti effettivamente questa piccola organizzazione è pagata dal Partito Comunista eccetera ma ovviamente tutto questo è fasullo i GAP di Consumenza non trovano più aperta la porta la possibilità di dialogo con il mondo libertario col mondo anarchico e si rivolgono a quelle che all'epoca erano le altre organizzazioni della sinistra rivoluzionaria per trovare possibilità di un tragitto comune e chi erano gli altri? Erano i bordeghisti che in quel momento si erano spaccati in due correnti diciamo quella del programma e quella di battaglia comunista avevano litigato praticamente da una parte bordiga dall'altra damen e i GAP dialogano con damen diciamo e con i troschisti e con alcuni dissidenti del Partito Socialista in particolare con i militanti dell'Unione Socialista Italiana che di a poco insomma avrà anche una presenza in Parlamento e con altri militanti di base i GAP teorizzano la terza conferenza già Maffi che era un bordeghista era stato presente alla prima conferenza ma la terza conferenza è presente anche come osservatore damen e decidono di organizzare degli incontri di quella che era all'epoca la sinistra rivoluzionaria per capire se c'erano dei terreni comuni da sperimentare di collaborazione per anche ipotizzare un'eventuale futura unità rivoluzionaria cioè quello che vogliono spostare i GAP sulle loro posizioni sono quelli appunto le componenti minoritari bordeghiste e trotschiste è un lavoro che d'ora in poi caratterizzerà i GAP fino all'esperienza con azione comunista ripeto sempre bisogna considerare quella che era la realtà italiana dell'epoca contesto politico eccetera questa battaglia loro la conducono però tenendo ben presente sempre la necessità di una chiarificazione netta su quella che era l'esperienza del comunismo sovietico soprattutto con lo stalinismo questa è una caratteristica che li distingue sempre anche nei dibattiti interni con queste aree già nel 53 loro tengono due riunioni nell'ottobre a Milano e l'altra in Puglia a Foggia quando ospite fa padrone di casa il partito comunista operaio di Foggia insomma di Mangano Massini non piaceva Mangano ve lo dico subito per tanti motivi molto discusso però era questa la realtà Mangano erano ottimi rapporti con D'Amen per cui c'è questa riunione che viene fatta proprio nel prima del capodanno del 53 questa lotta che loro fanno contro gli stalinisti è una lotta costante e li porta anche a dei successi nel senso che a Vicenza per esempio dove c'è una sezione dei gap piuttosto attiva riescono a portare via alcuni dirigenti del partito comunista sulle posizioni dei gap e aderiranno ai gap tant'è che il partito comunista poi interviene con dei giornali che denunciano diciamo questi provocatori che venivano a rompere le scatole al partito comunista questo lavoro sarà costante parallelamente con l'elaborazione teorica loro continuano a produrre testi sulla unione sovietica e sullo stalinismo lo testimonia l'impulso ma anche altri circolari che fanno eccetera li porta nel breve tempo a costituire e questa è una vocazione che i gap hanno sempre avuto dall'inizio un internazionale comunista libertaria attenzione il nome è molto pomposo la realtà è che fu un'esperienza molto limitata nel tempo e nei numeri ma la vocazione dei gap era quella di costruire un'organizzazione internazionale l'avevano sempre avuta fin dall'inizio Massini già nel 48 49 aveva avuto molti contatti sul piano internazionale in particolare col mondo francese in particolare con Fontenille che vediamo in questa foto della riunione dell'internazionale del giugno del 54 ci sono stati scambi epistolari ma anche visite reciproche Fontenille era venuto in Italia Massini era andato in Francia perché anche in Francia nel movimento anarchico francese stava succedendo qualcosa simile a quello che stava succedendo in Italia ma anche perché il movimento anarchico francese come altri movimenti per esempio lo spagnolo o quello tedesco o quell'inglese stavano subendo i contraccolpi di quella crisi che vi ho presentato prima per cui questa vocazione Massini e GAP ce l'hanno di portare su un piano internazionale la propria azione poi le difficoltà gli interlocutori faranno decadere questa ipotesi però c'è questi che vedete per esempio al lato sono alcuni giornali in lingua tedesca in lingua spagnola ma c'è anche in lingua inglese dei bollettini che i GAP facevano all'epoca e che distribuivano l'internazionale farà solo due grandi diciamo campagne importanti due grandi eventi la prima riguarda la lotta di sostegno al popolo algerino che proprio in quegli anni siamo nel 54 insorge contro l'occupazione francese tra le altre cose in Francia si costituisce un piccolo movimento libertario del nord Africa che aderisce all'internazionale comunista libertaria in quel momento l'impulso è il giornale in Italia che ha le migliori informazioni sulla crisi algerina ospiterà anche dei militanti algerini clandestini e aiuterà anche economicamente la resistenza algerina l'altra iniziativa grossa che farà l'internazionale ma sempre su iniziativa di Masini è questa conferenza di Zimmerwald del 1915 ed è in ricordo dell'anniversario della conferenza del 15 questo per rimarcare la loro scelta internazionalista e poi l'anno successivo farà un lungo documento all'inizio dell'anno sul famoso congresso ventesimo congresso del PQS per cui come vedete cercavano di muoversi sia su un piano nazionale che internazionale l'altro momento di svolta avviene tra il 54 e il 55 quando i GAP entrano in contatto con una minoranza che si stava muovendo all'interno del Partito Comunista e l'idea di strappare militanti al Partito Comunista è un'idea fissa che hanno i GAP quando appunto si palesa e si manifesta questa minoranza con un bollettino clandestino in quel periodo come gruppi di azione comunista e incontrano Giulio Seniga qui vedete una famosa fotografia sotto la torre di Pisa con Masini alla sinistra Seniga alla destra il terzo cappello è Lorenzo Gamba uno dei militanti storici dei GAP il quarto non è identificato questa componente che si era aggregata all'interno del Partito Comunista poi aveva un appoggio esterno che era Giorgio Galli il politologo famoso che all'epoca diciamo bazzicava l'estrema sinistra ma era un socialista nella sostanza era l'occhio del Partito Socialista nelle minoranze della sinistra rivoluzionaria il rapporto si stringe anche perché per prima volta i GAP hanno la consapevolezza di avere avuto un'influenza nell'aiutare a formarsi e a consolidarsi di questa minoranza all'interno del Partito Comunista e voi capite cosa voleva significare far nascere all'interno del Partito Comunista una dissidenza siamo nell'epoca staliniana Stalin muore nel 53 c'è la cosiddetta distanializzazione che porterà al ventesimo congresso cioè porterà a un chiarimento sul piano internazionale importantissimo e loro lo volevano questo chiarimento da posizioni rivoluzionali non da posizioni conservatrici o reazionari e questo è il gioco il ruolo che loro si danno e e questo rapporto è un rapporto proficuo che spinge ovviamente i GAP ad allargare le proprie maglie nei confronti di quest'area culturale che è molto diversa rispetto all'area anarchica ovviamente sono dei comunisti contemporaneamente l'incontro con i gruppi di azione comunista porta i GAP a rafforzare la propria presenza nel mondo sindacale tenete conto che all'epoca i delegati dei GAP all'interno della CGL non sono pochi e hanno ruoli anche importanti sul piano nazionale nella CGL sul piano del sindacato della Fiume dove Scattoni per esempio è un delegato nazionale partecipa ai congressi nazionali anzi si può dire che GAP sono l'unica minoranza in Italia a quell'epoca rivoluzionaria che aveva un consolidato reticolo di rapporti con il mondo sindacale soprattutto di militanti che agivano nelle camere del lavoro e nei sindacati di categoria tant'è qui vedete Scattoni mentre parla al congresso della federazione del Lazio e della Fiume tant'è che i GAP giocano un ruolo non indifferente nel quarto congresso nazionale della CGL tenete conto che in quel periodo chi è il segretario della CGL? E' di Vittorio il per esempio il segretario della Fiume è un comunista ma figlio di anarchici per cui non deve sembrare strano che i GAP agissero come minoranza all'interno della CGL i GAP avevano una certa audience all'interno della CGL lo dimostra il fatto che elaborano una piattaforma che è questa dichiarazione della corrente anarchica sindacale al quarto congresso che verrà letta per la prima volta in un consesso sindacale a Genova da Marcello Bianconi che non era dei GAP ma militava nei comitati di difesa sindacale che era l'organismo che GAP utilizzavano per agire all'interno della CGL un organismo unitario dove c'erano militanti dei GAP ma anche militanti della FAI qualcuno come Umberto Marzocchi e anarchici non della FAI non dei GAP che però avevano una tradizione di presenza nel mondo sindacale questo ruolo tra te o se tenete conto che il quarto congresso CGL si svolge praticamente a termine dei lavori del ventesimo congresso per cui in un clima veramente di emozione per quello che stava venendo fuori come eco dalla Russia e di forte mobilitazione anche perché nella cortina di ferro c'erano i segnali di che qualcosa non andava di lì a poco nel mese tra giugno e luglio ci sarà la rivolta in Polonia e poi in autunno la rivolta ad Ungheria questa dichiarazione viene distruita in mille copie al congresso della CGL viene fatta trovare sui tavoli il servizio d'ordine soprattutto del Partito Comunista cerca di rimuoverla ma i delegati anarchici riescono a impedire questa rimozione per cui vedete bene da una parte la formarsi della dissidenza all'interno del Partito Comunista che entra in dialogo con i GAP dall'altra presenza sindacale rafforza questa ipotesi di poter unire tutti i militanti su posizione rivoluzionaria ovviamente il processo non è una cosa semplice di questa unificazione durerà alcuni mesi e verrà accelerato soprattutto da due eventi importanti uno sul piano internazionale è la rivolta ad Ungheria che sembra squarciare il velo su quello che è stato l'inverno staliniano e dare una prospettiva rivoluzionaria nuova in Europa tenete conto che la rivolta Ungheria non è una rivolta di semplici borghesi è una rivolta operaia cioè c'è una realtà di consigli di fabbrica importante che gioca un ruolo nelle giornate di fine ottobre inizio novembre importantissimo i GAP sono fra i primi che colgono questa questa istanza e la rivendicano anche come percorso loro teorico di analisi di quello che era il contesto appunto delle paesi del socialismo reale questo crisi insieme al fatto che di lì a pochi tempo ci sarebbe stato l'ottavo congresso del partito comunista per cui si aspettava che qualcosa succedesse all'interno del partito comunista accelera il processo di unificazione praticamente nell'arco di poche settimane le quattro componenti che formano diciamo questo bordiga in maniera spregievole dichiarerà che queste componenti sono un quadrifoglio fittizio e che non avrà futuro all'interno di queste componenti c'erano i gruppi di azione comunista c'erano i bordighisti i trossfisti e i GAP però c'era anche un personaggio come Bruno Fortichiari che era stato uno dei fondatori del partito comunista d'Italia un personaggio coerente diciamo un suo spessore questo porta ad un'accelerazione un'accelerazione che fa sì che da lì a poche settimane alla sesta conferenza i GAP decidano di cambiare il nome in federazione comunista libertaria e successivamente con la rivolta d'Ungheria e con la prospettiva prospettiva di un congresso del partito comunista dove queste minoranze al suo interno c'era anche una componente di dissidenza di destra rappresentata da Giolitti e da altri potessero mettere in crisi quello che era il più grande partito comunista d'Occidente questo porta alla conferenza del 16 dicembre del 56 dove i GAP hanno un ruolo importantissimo perché sono dei mediatori sono coloro che danno un contributo all'organizzazione in questa conferenza che stia in questo cinema di Milano il cinema Dante dove vi partirono circa 600 militanti provenienti un po' da tutta Italia di varie componenti ma fra gli osservatori c'è personaggi come l'elio basso per farvi capire come anche chi era dentro ai grandi partiti osserva questo fenomeno di dissidenza importante in questa conferenza i GAP anzi l'FCL la federazione di comitazione libertaria pigia per arrivare ad una unificazione in tempi brevi considerando l'aspettativa si è convinti ormai che c'è lo spazio per creare una terza alternativa un terzo polo nella sinistra italiana ma su posizioni di classe e rivoluzionarie e questo porta di fatto a uno scioglimento dei GAP dentro questa esperienza scioglimento che verrà decretato nella settima e ultima conferenza che si tiene a Genova e che deciderà la fusione con i gruppi di azione comunista attenzione nel frattempo i bordighisti i trotschisti per vari motivi che non vi sto ora a spiegare ma potete immaginare Damener in realtà veniva dal mondo bordighista ma era un profondo settario mentre i trotschisti all'epoca agivano all'interno del partito comunista erano entristi e non volevano uscire dal partito comunista per cui non vedevano di buon occhio la formazione di un'organizzazione concorrenziale che li potesse mettere in crisi loro non ci stanno in questo progetto la sinistra comunista il movimento della sinistra comunista si forma con la fusione dei gruppi di azione comunista liquidati da Seniga e con quelli di Conigap e FCL guidata da Masini e Cervetto tenete conto che mentre Masini pigia molto per questa fusione Cervetto avrebbe preferito mantenere ancora per un po' di anni la presenza di una sigla come LFCL affiancata ai gruppi di azione comunista prima di arrivare a una formalizzazione di unificazione giudicava non ancora maturi i tempi di questa unificazione e lo dirà anche in seguito ora concludo e scusatemi se sono stato eccessivamente lungo però mi sembra che ho cercato di dare una sintesi un po' di cosa è stata questa storia e di cosa qual è stato il tentativo dei gap in quegli anni all'interno della storia dell'anarchismo per arrivare alla conclusione cosa significa questa esperienza intanto questa esperienza non muore nel 57 dal punto di vista individuale perché la stragrande maggioranza dei militanti che si sono formati all'interno dei gap continueranno a far politica anche dopo ciò vuol dire che la preparazione politica che avevano ricevuto era una preparazione abbastanza solida come vedete qui anche dalla statistica la gran parte rimarrà nell'ambito della sinistra rivoluzionaria un 10% rientra nelle file dell'anarchismo e qualcuno va o nel partito comunista nell'area comunista o nell'area socialista però come giustamente diceva Masini si può tranquillamente affermare che l'esperienza diciamo di questo gruppo è un'esperienza di tipo revisionista nel senso buono del termine attenzione loro all'epoca non si definivano revisionisti assolutamente anzi dicevano che erano gli altri che erano revisionisti dell'anarchismo però Masini molti anni dopo questo termine lo usa per dire sì effettivamente noi abbiamo cercato di rinnovare l'anarchismo alle sue radici quello che lui voleva dire era soprattutto cercare di varcare la soglia della polis cioè di definire un coerente distinto corpus teorico e di prassi politica consapevole dell'insufficienza teorica e pratica del vecchio anarchismo con lo scopo di rompere una tradizione conservatrice lui dice addirittura forse con un po' più di fantasia avremmo potuto inventare davvero un anarchismo nuovo adeguato alla società contemporanea anticipando anche certe tesi della contestazione giovanile della nuova sinistra della fine degli anni sessanta è interessante questa riflessione perché lui la fa negli anni settanta in una lettera di un militante che si stava rivolgendo alla storia dei gappe come un precedente su cui lui voleva formarsi però mi sembra anche una degna chiusura di questa di questa nostra conversazione e e lasciamo al dibattito poi domande e interventi e riflessioni su quello che è stata questa esperienza grazie allora io ringrazio Franco per questa interessantissima analisi di quello che sono stati i GAPO ma soprattutto lo ringrazio per essere stato per aver incastrato la storia dei GAPO dentro alla storia di quello che è successo tra il 1930 e il 1950 cioè quella parte della storia della sinistra del mondo della cultura della conoscenza della trasformazione economica che rende sicuramente necessario un ripensamento di tutte quelle ideologie non recentesche con cui oggi nella storia noi ci confrontiamo a questo punto noi possiamo prendere due strade o analizzare ulteriormente questa storia scendere nei particolari trovare spunti sconti di interesse oppure fare quello che mi pare che l'abbia detto Walter Benjamin ma poi quando mi sono letto bene le tesi sulla storia di Walter Benjamin non l'ho trovato per cui me lo sono sognato l'ho letto da qualche parte che tante volte nella storia bisogna cercare dei piccoli dettagli delle stranezze delle imperfezioni che servono per comprendere ciò che non è stato compreso allora e che oggi bisognerebbe comprendere cioè fare della storia uno strumento di discussione fare della storia uno strumento di di analisi cioè servirsi della storia per sviluppare progetti io chiedo a tutti quelli che sono presenti se vogliono porre delle questioni altrimenti lo farò io quindi lascio un minuto di tempo chi vuole diciamo può farsi sentire o scrivere in chat esatto chi vuole parlare può aprire il microfono e parlare buonasera mi chiamo Lorenzo io avrei una curiosità in merito e poi alla deriva leninista di Cervetto tutto qua devo rispondere subito allora il rapporto formazione di di Cervetto non la definirei una deriva perché in realtà Cervetto fin dai primi mesi di costituzione del nucleo che poi porterà alla formazione dei gap a proda a un neo-leninismo derivato dalla lettura non solo delle opere di Lenin ma in generale dei classici del marxismo diciamo che se c'è un difetto che nei gap inizialmente nasce da un compromesso tra Massini e Cervetto perché se voi leggete la loro corrispondenza che è stata anche recentemente pubblicata integralmente Cervetto dichiara subito a Massini di abbandonare l'anarchismo un paio di volte forse utilizza il termine narco comunismo o narco marxismo ma lui approda subito un neo-leninismo lo dice in maniera molto chiara bisogna recuperare diciamo la la tradizione leninista rinnovarla rielaborare un progetto politico su quella base teorica e per cui sarà coerentemente un militante dei gap pur su posizioni leniniste per tutti gli anni di formazione e la sua idea già manifestata in maniera molto chiara nelle tessi del 55 per il nuovo partito rivoluzionario lui dice questo partito rivoluzionario deve nascere su posizioni neo-leniniste per cui è coerente diciamo alla la sua linea la sua vicissitudine la sua vita perché poi all'interno di azione comunista quando si crea il movimento a sinistra comunista continuerà a lavorare per la formazione di un vero partito leninista italiano ritenendo che ovviamente il partito comunista dell'epoca il partito tagliattiano fosse lontano mille miglia dal pensiero di lenin e approda nel 65 per una spaccatura all'interno della sinistra comunista la formazione di quella che ho ancora oggi in vita l'esperienza di lotta comunista per cui è un approccio non è l'unico all'interno dei gap ci sono diverse correnti che successivamente si manifestano se voi sapete benissimo che Massini invece ha un'altra totale altra visione dopo l'esperienza di chiusura col movimento a sinistra comunista lui entra nel partito socialista e diventerà un onesto coerente social democratico non so se ho risposto grazie mille c'è un'altra domanda in chat buonasera un saluto a pugno chiuso a tutti a tutti dall'esperienza gap ne escono poi negli anni compagni e compagni interessati a un percorso che unificasse la sinistra di classe rivoluzionaria che bilancio trarne e quanto sono attuali nella lotta di classe ancora oggi rispondo sempre io allora è una bella domanda da un milione di euro o forse anche di più vi racconto un aneddoto intanto un militante dei gap Victor Ugo Bistoni partecipò all'Ascia era doppia sulla storia dei Longobardi fu preparato da Masini vinsero 5 milioni di lire mi pare dell'epoca c'è una quota di cui la metà fu destinata alle famiglie e ai figli degli operai che hanno stati licenziati per motivi di sciopero e l'altra metà all'organizzazione del movimento della sinistra comunista lo dico come battuta per raccontare quest'aneddoto non tutti lo sanno ma non è facile rispondere il problema che è vero io ho raccontato la crisi dell'anarchismo ma dovremmo raccontare la crisi di tutta la sinistra rivoluzionaria di quegli anni e degli anni successivi anche l'esplosione della contestazione degli anni sessanta non ha prodotto diciamo un processo tra virgolette di unificazione delle avanguardie rivoluzionari e non so neanche se nei termini come lo si intendeva una volta questo processo può essere ancora giustificato fatto sta che l'arretamento negli ultimi 50 anni delle forze rivoluzionari è stato notevole perché si è passati da sconfitta a sconfitta d'altronde io ritengo che i processi storici sono processi che vanno misurati nei lunghi periodi non nei brevi periodi credo che per il ventunesimo secolo ripensare a un'organizzazione rivoluzionaria o a più organizzazioni rivoluzionari che all'interno del movimento di classe riescono a imporsi sul piano dell'attività e a creare un'alternativa al sistema di dominio attuale è sentito come bisogno ma è una cosa ancora lunga da arrivare e penso che sia un processo che ci vorranno molti decenni perché si arrivi a un'ipotesi del genere e probabilmente conforme con idee che ancora noi oggi non abbiamo ben chiare insomma approvo io diciamo a scombinare le carte prima di tutto io volevo capire Massini conosceva Massino no? sì sì allora io nasco diciamo come arcinovista dentro la FAI e come come scrivevo a Franco Bartolucci diciamo io questo libro ho cominciato a leggerlo poi non ho potuto leggerlo più il primo libro perché a un certo punto mi sono sentito mi sono sentivo come di leggere una storia già scritta già vista già vissuta io ero diciamo a Roma il giorno che noi quelli del gruppo operativo dentro la FAI fumo cacciati dalla FAI secondo me questo dettaglio storico questa imperfezione della corrente della storia cioè l'atto volitivo con cui alcune persone cacciano via altre persone e il fatto che la FAI l'abbia prima fatto con i gatto e poi l'abbia fatto con gli arcinovisti subito dopo la resistenza all'inizio negli anni cinquanta e subito dopo il sessantotto secondo me ha qualcosa che merita è un'imperfezione è un'impurezza perché risuccede la stessa cosa da questo secondo me se ne possono ricavare si può iniziare una discussione perché questo è anche collegato alla questione finale e cioè coloro che oggi ritengono di far parte perché ne ritengono soggettivamente di far parte della sinistra rivoluzionaria che prospettive politiche concrete ha se le prospettive se noi pensiamo che i GAP prima gli arcinovisti poi nell'ambito del movimento libertario erano quella parte della sinistra rivoluzionaria interna al movimento libertario che si poneva problemi di agire concretamente non credo che non si possa affrontare e vedere quali sono le cose che unificano questi progetti dal punto di vista della FAI e quali sono le conseguenze della mancata riuscita della mancata del mancato allargamento di queste due strutture certo non si può rispondere completamente a questa domanda ma addentrarsi nei neandri di questa questione può essere uno spunto per ulteriori riflessioni che ne pensi? allora intanto una precisazione la piattaforma di Arcefo viene tradotta da Massini e ciclostilata da gruppo Roma Centro e viene distribuita nell'anno 50 diciamo in una forma molto rustica molto povera però viene discussa all'interno di quest'area ci sono delle differenze tra il modello organizzativo del gruppo di essoli russi e di altri militanti che hanno dato forma appunto a quella ipotesi organizzativa che poi non è decollata dai gap cioè ci sono delle differenze notevoli però detto questo loro la conoscevano e Massini era un profondo conoscitore dell'ambiente anche francese aveva ottimi rapporti ripeto non solo epistolari ma c'è anche stato in Francia tra dose c'è stato portandosi dietro la giovane moglie che scalcinava per tornare a casa e lui la portava in giro per le riunioni ma detto questo a parte le battute l'altra domanda che tu mi poni non va secondo me posta sul piano FAI coordinamento lavoratori coordinamento nazionale lavoratori come si dette la forma iniziale di quell'area che poi si è andata aggregando come area neo piattaformista o neo accinovista o come volete etichettarla secondo me va preso nella sua complessità quante volte l'anarchismo ha cercato di uscire dal suo guscio di estrema minoranza nel tentativo di proporsi come un'alternativa politica negli ultimi 50-60 anni e in tutte volte che ci ha tentato è stato lacerato da difficoltà contrasti interni mancanza di idee però tenete presente che se voi chiedete a un giovane dell'epoca del 68 quali erano i testi teorici che leggeva difficilmente vi dirà io ho letto il testo di questo anarchico contemporaneo può dire che ha letto qualcosa magari di 50 anni prima 70 anni ciò che vuol dire che l'anarchismo anche sul punto di vista della novità teorica ha detto poco al di là della vivacità di quello che è il mondo libertario oggi di quanto produciamo di carta di centri di documentazione in realtà progetti reali politici non ce ne sono e allora tutte le volte che qualcuno cerca di proporre qualcosa nasce subito un contrasto perché chi ha qualcosa in mano ha paura di perdere un proprio privilegio quando Masini prima sulla propria esperienza parlava della tradizione conservatrice è curioso in un movimento rivoluzionario c'è qualcuno che parla di una tradizione conservatrice cioè già l'idea del conservare immobile un proprio pensiero un proprio storia è già qualcosa di terribile vuol dire che tu non sarai mai capace di rinnovarti e rinnovare e poi una proposta adeguata ai tempi questo è stato un dato di fatto la FAI non c'è stato solamente il problema della spaccatura d'Arcinovista dopo pochi anni nasce Lusi e voi sapete che la nascita dell'Usi fu una nascita che lascerò all'interno della FAI molti gruppi molti gruppi furono espulsi altri se ne andarono Lusi che cos'è in fondo non è un sindacato è un partito sindacalista è il tentativo di dare un senso pratico un'azione politica che in altri ambienti non si riusciva a costruire cioè quello voglio dire è che la politica e che possiamo pensare di quello che è la politica a Roma nei palazzi la politica è una cosa essenziale nella vita non possiamo rifiutarla dobbiamo però adeguarci adeguarci alle situazioni capire studiare elaborare questo però collettivamente non è stato fatto perché ditemi voi quando cioè ci sono tanti bravi intellettuali libertari che hanno elaborato molto ma un progetto che coerentemente è andato avanti negli anni portando avanti dei punti precisi dal punto di vista dell'analisi economica dell'analisi sociologica con delle proposte delle battaglie e con la formazione di nuove generazioni di militanti non è stato fatto qui l'anarchismo oggi quello che c'è quello che nasce sulla spontaneità e sulla iniziativa individuale o di piccoli gruppi di qualche piccolo coordinamento ora poi si potrebbe discutere di quello che è l'anarchismo oggi ma insomma però quando prima quell'altro nostro uditore ha sollevato la questione di Cervetto noi possiamo dire di tutto di Cervetto è un leninista è quello che è cattivo brutto quello sporco quello che ti pare però lui coerentemente nella sua vita ha portato avanti un progetto e ha costruito la propria ipotesi organizzativa la propria ipotesi politica su questo progetto e l'ha portato avanti e di fatto oggi loro esistono sono tra virgolette per quello che possiamo immaginare sono una realtà di quella che è la cosiddetta sinistra leninista italiana da parte anarchica però o anarcho comunista o comunista libertaria o socialista anarchica o socialista libertaria si fa tanto parlare a Castelbognese abbiamo fatto un convegno dove diverse componenti storiche si sono confrontate sui problemi della storia delle organizzazioni anarchiche ma sembrava di parlare fra sordi ognuno raccontava la propria storiella senza mai interloquire ma soprattutto senza avere una visione di insieme senza comprendere dove siamo finiti non so se ho risposto scusa scusate la mia domanda sul cervetto non era in chiave polemica io ero a Savona quando morì veramente nulla da eccepire qualche domanda altra allora se ho ben capito diciamo la posizione di Franco sulla questione dell'anarchismo oggi è definitiva diciamo sostanzialmente tombale io ho testare questo fatto e lo contesto non sul piano dell'anarchismo come organizzazione politica attuale nelle forme che esistono lo contesto come struttura del pensiero desiderio delle masse come diciamo antagonismo esistente se io osservo il mondo oggi nelle sue variegate espressioni esiste una pulsione che non è politica esistono dei pensatori che sviluppano dei pensieri originali esiste un'opposizione generalizzata all'esistente il problema non è a mio giudizio che l'anarchismo finisce o non finisce il problema è che queste pulsioni non vengono strutturate politicamente da chi già esiste ma a questo punto la storia dei GAP e la storia degli arcinovisti è questa subito dopo la resistenza di fronte allo stalinismo i GAP propossero una terza via nel 68 di fronte a quello che era l'esistente i giovani si svegliarono cercano di percorrere una strada politica e diciamo si esaurì anche questo queste due iniziative non nascono queste due cose non nascono come tu hai visto e hai detto i militanti dei GAP non erano militanti anarchici precedentemente che erano delle persone che nel corso della resistenza nel corso del fascismo avevano sviluppato un antagonismo la stessa cosa nel 68 per ben due volte movimenti nati in seno a una struttura di antagonismo il 68 e la resistenza non hanno trovato in tutte le forze politiche di sinistra rivoluzionaria una stampazione appella diciamo una struttura per ricominciare in questo la storia dei GAP che è così ben documentata e la storia degli arcinovisti che è così ben vissuta da me da molti di quelli che sono qui presenti dovrebbe cercare di fornirci elementi per un dibattito tu non credi che almeno nei GAP un insegnamento non nel senso classico ma nel senso di errori che sono stati commessi di cose che non sono state viste esista posso rispondere ciò vedo che ci sono degli altri interventi sulle chat allora io non dico che nella società non ci sia diciamo un moto spontaneo verso la ricerca di maggiore libertà e che questa ricerca venga a volte anche con prassi e pratiche libertari non lo nego assolutamente lo so e meno male che c'è e io sono ben contento però però il problema che quando tu dici noi non abbiamo incontrato qualcuno che con noi interloquisse che ci facesse crescere che facesse da stampella questo è il problema cioè non c'è una prospettiva politica dell'anarchismo che è una cosa diversa cioè coloro come si forma un anarchico è vero che ci vuole l'impulso spontaneo di chi nella propria esperienza personale arriva ad amare diciamo il pensiero libertario comunque un pensiero rivoluzionario poi ognuno lo può declinare come meglio crede socialista libertario marxista libertario anarcho comunista individualista anarchico va bene ma poi c'è un problema politico come si abbatte il capitalismo come si trasforma questa società come si trasforma lo stato qui ci sono delle forze che agiscono ci sono delle forze che controllano e dominano il mondo e ci sono delle forze che sono in opposizione a volte con metodi molto lontani da quelli che pensiamo noi essere metodi più corretti altri sono magari più vicini però di fatto è un problema di quello che è il potere come lo si trasforma questo potere se non c'è il problema è che non c'è la prospettiva ecco perché come dire si va a cadere poi in esperienze di tipo praticistico per alcuni ci si rifugia nelle comunità sono tutte forme di autodifesa di forme di resistenza ma sono insufficienti a porre il problema su un piano generale ma voi prendete per esempio quello che sta accadendo nella Siria del Nord dove purtroppo l'esperienza del Rojava dell'insurrezione diciamo laica in qualche maniera del Rojava e di tipo libertario per certi aspetti e attenzione non tutti ma per certi aspetti libertari o comunque che ha dato un risveglio anche dell'interesse e una partecipazione internazionalista e tutto è stata schiacciata recentemente dall'offensiva turca ma lì si pone un problema di gestione della società di gestione dei rapporti di produzione dell'organizzazione delle istituzioni locali lì è la politica è lì che se vogliamo essere anarchici non è che semplicemente dire stare fuori e dire ah sì noi vogliamo solo l'abolizione dello Stato vogliamo l'abolizione del capitalismo però non vi diciamo come farlo però se lo fate se voi agite in questa maniera noi non ci sta bene dobbiamo il classico sporcarci le mani è un dato di fatto negli anni 70 era un problema a volte tenente presente i tempi perché noi siamo stati giovani tutti e tutti siamo stati frettolosi nel voler accelerare delle nostre esperienze nel desiderio di vederle affermate però in realtà nella storia i processi storici che per esempio hanno portato alla fondazione della prima internazionale sono durati un secolo perché dall'età dell'illuminismo arrivare a internazionale passa un secolo e quante rivoluzioni e mezzo ci sono state noi viviamo un lungo periodo di transizione che viene da un periodo di sconfitte se non ci attrezziamo dal punto di vista teorico dal punto di vista organizzativo dal punto di vista delle prospettive politiche noi fra 50 anni ci ritroveremo qui forse o chi qualcuno avrà dei figli e si troveranno i figli a dire ma perché non si fa questo e non si fa quell'altro mi sembra che a tutt'oggi l'anarchismo non sia assolutamente in grado di proporsi come un'alternativa se la intendiamo come movimento politico se la sentiamo come un sentimento va benissimo se la sentiamo come una scelta esistenziale va bene una scelta di vita ognuno si fa la propria comune va benissimo non c'è problema meglio questo che niente siamo d'accordo ognuno si fa la propria casa editrice benissimo il proprio centro di documentazione va bene però diciamocelo francamente poi quando si deve andare a contare sul piano nazionale e internazionale il peso è minimo quando è che viene fuori l'anarchismo o per fatti di cronaca come recentemente e ne viene fuori il peggio o quando è aspetti di folklore allora dobbiamo ragionare se vogliamo imparare qualcosa dal passato nel senso non che il passato si può riproporre io non credo che un'esperienza come quella dei gap si possa riproporre oggi così come è nata allora però noi dobbiamo anche capire che la lettura del passato come c'è questa bella citazione di bloc che ho messo alla fine del mio intervento è una lettura che va in evoluzione che si trasforma si perfeziona perché abbiamo pubblicato tre tomi di mille pagine e passa perché noi io credo e coloro che hanno collaborato con me fra cui bisogna dirlo noi questa edizione l'abbiamo fatta con l'edizione Pantarei che è l'edizione di lotta comunista non è che nascondo questo tipo di collaborazione l'abbiamo fatta per dare degli strumenti di lettura e di conoscenza approfondita su quella che è stata l'esperienza dei Gap e cercare di dare una chiave nuova e diversa di lettura di quella crisi se voi leggete l'introduzione mi dispiace che tu ti sei fermato di leggere il primo libro dei Gap ma se tu leggi tutta la prima introduzione al primo volume è tutta l'analisi della storia dell'anarchismo di quegli anni sia dal punto di vista studiografico che dalla storia del movimento vero e proprio e non mi sembra che sia una lettura che sia equivalente alle tante letture che ci sono state in questi anni assolutamente basta dirte che se tu prendi tutti i libri che sono usciti negli ultimi 20 anni sulla storia di questi anni degli anni 40-50 difficilmente troverai degli argomenti che trattano i Gap in maniera diversa di come li hanno trattati negli anni 50 la FAI di allora o coloro che si opponevano ai Gap per cui secondo me quello che ci vuole ci vogliono strumenti lavoro, riflessione elaborazione e percorsi collettivi bisogna smettere di lavorare individualmente come se ognuno di noi fosse autosufficiente a tutto provo a leggere la domanda di Alessandro l'analisi sull'UCI è perfetta perché sulla piattaforma e le posizioni di mano alla testa nel suo merito si sorvola sui carteggi che sono di apertura all'organizzazione altra domanda quale fu il percorso sindacale dei Gap e di difesa sindacale dopo lo scioglimento di azione comunista rispondo prima all'ultima parte che è più breve per circa un anno e mezzo continuarono a militare nei comitati di difesa sindacale per circa un anno e mezzo poi di fatto la loro uscita portò alla morte dei comitati di difesa sindacale e hanno continuato a militare all'interno della CGL come corrente della sinistra comunista e lo sono sempre rimasti coerentemente per cui questa è la risposta per quanto riguarda la testa e l'organizzazione io non credo di aver sopravvalutato o sottovalutato il rapporto Malatesta con la questione della piattaforma di Archinov ne parlo nell'introduzione al primo volume ma anche successivamente nell'introduzione dell'ultimo volume Malatesta ovviamente è critico nei confronti di quella scelta anche se attenzione rispetto ad altri Malatesta è sempre disposto al dialogo al confronto lui è coerentemente sulle sue posizioni lui è per un anarchismo organizzato dove la responsabilità sia una responsabilità morale e non collettiva e qui la differenza ed è un'organizzazione di sintesi rispetto all'organizzazione di tendenza e Malatesta pur essendo già in quegli anni costretto diciamo a un isolamento quasi totale riuscì a far pervenire all'estero la sua opinione e mi sembra stata molto coerente con quella che è tutta la sua vita anche Fabri se avete notato nel terzo volume quando io parlo dell'approccio sulla questione teorica e pratica dell'organizzazione da parte dei militanti dei GAP Fabri quasi mai è citato perché GAP non avevano come riferimento Fabri sul piano teorico assolutamente nel senso che Fabri lo giudica un bravissimo compagno ma un esecutore del pensiero di Malatesta e in effetti Fabri dal punto di vista della teoria dell'organizzazione non fa altro che riproporre ciò che Malatesta diceva semmai Fabri viene utilizzato per le sue analisi sul fascismo sul comunismo cioè è lì che apprezzano di più l'elaborazione dei Fabri ma su Malatesta vi posso assicurare non c'è nessuna sottovalutazione Malatesta ha avuto un ruolo importante purtroppo è morto nel 32 come dicevo prima lui è uno dei primi grandi leader che scompare italiani in quegli anni la sua mancanza si farà sentire il suo contributo lui l'ha dato fino all'ultimo perché fino all'ultimo ha cercato di orientare i militanti di tenerli insieme lui credeva comunque nell'organizzazione era un coerente associazionista non so che altro negli anni 50 il pensiero di Malatesta non era conosciuto così bene come magari lo è stato come è stato oggetto poi di studio negli anni successivi erano pochi le raccolte di testi che circolavano fra i militanti tant'è che in quell'epoca RL che era rivoluzione libertaria la casa editrice che era gestita dalla Giovanna Berneri e dal gruppo di volontà propone una serie di selezioni di iscritti di Malatesta che GAP contestano per la scelta dei testi e per l'apparato critico lo faranno nel 53 non a caso la tessera dei GAP del 53 riporta le immagini di Malatesta ma la testa per i GAP era un punto di riferimento importante non lo facevano solo per motivi strumentali non so se ho risposto allora se non ci sono altre domande faccio l'ultima e ti lascio concludere questo incontro allora io non ho continuato a leggere il libro perché le due cose che me l'hanno impedito o le risolvo o non continuo perché per me ci sono già due insegnamenti come per l'insegnamento io non intendo diciamo un insegnamento didattico ma un'imperfezione un'imperfezione che che merita un'attenzione intanto diciamo io devo complimentare con forza sulla caratteristica e sulla qualità di quello che ho letto dei documenti presentati e come vivere un'esperienza almeno per me è restata attraverso il testo si riesce a comprendere moltissimo e come vivere un'esperienza e quindi diciamo questi dettagli storici io credo che in un'opera del genere si possono trovare ed è proprio avendoli trovati che io mi imperisco di continuare a leggerlo essendo soddisfatto della mia indagine storica ma per me sto scherzando continuerò a leggerlo con interesse però sono due le cose che mi hanno sconvolto la prima era la ricorrenza con cui esistono dei conflitti all'interno di un movimento politico anarchico comunista socialista non ha importanza ma pensare che negli anni subito dopo la guerra un movimento politico ricco si sia improvvisamente frantumato contrastato reso difficile e terribile e avendolo vissuto avendo vissuto il distacco dalla fa in quella maniera mi rendo conto come questa sia una cosa incredibilmente potente nella storia delle persone e nella storia delle cose per cui qualunque movimento politico perché poi la politica non è mica una scienza assoluta bisogna riconoscere all'interlocutore almeno il beneficio del dubbio quindi si può essere diversi staccati ma bisogna continuare a collaborare ci possono essere dieci organizzazioni politiche che devono andare insieme fino a quando un movimento politico non avrà questo come si presenta oggi di fronte al mondo il movimento politico può essere vario ma deve essere un minimo di coesione e su questo l'insegnamento cioè quello che sta negato è proprio questo una dimostrazione ricorrente dell'incapacità della sinistra di strutturarsi al di fuori degli interessi elettorali in un modo organico questo si ricava nettamente dalla lettura del dubbio almeno io questo l'ho ricavato e poi l'altra emozione profonda che mi ha che mi ha mi ha colpito è quando io non ricordo più del pu il punto neanche ma quando qualcuno forse tu descrivi quello che dicevano i GAP ai loro primi comizi e cioè che le persone si accorgevano quando i GAP parlavano e parlavano di rivoluzione che non si sarebbe ottenuto nessun risultato concreto nell'immediato e che quindi passavano dagli altri altri e ti volevo chiedere per risvegliare la mia memoria chi lo diceva tu o qualcuno dei GAP Jenny tu hai una capacità di sollevare non con due domande tante risposte ma una montagna di domande perché io non posso risponderti a tutto anche perché in cui c'è essere tardi penso che i nostri interlocutori siano anche stanchi però la questione del ruolo del personalismo è chiaro che nelle minoranze più sono minoranze più il personalismo è un cattivo costume che si afferma i GAP nascono anche per combattere questo per combattere quello che loro chiamavano lo spirito della famiglia il familismo il fatto che si lavorava con i fiduciari e non con l'organizzazione si discuteva magari ora in un'assemblea ma chi decideva poi era qualcuno all'esterno o chi poteva prendere la parola all'interno dell'assemblea era solo colui che aveva capacità oratorie loro questo lo combattono sempre sul fatto ultimo che poi citavi sono loro che fanno questo discorso quando intervengono nei comitati di fabbrica e nelle assemblee tenete conto che GAP per farvi un'idea quando c'è la crisi ungherese vanno nelle camere del lavoro per cercare di far approvare mozioni a favore della rivoluzione ungherese e ci hanno un netto contrasto da parte del partito comunista però tenete conto che a Livorno per esempio si svolge un simbolico sciopro di proteste e di sostegno con i rivoluzionari ungheresi proprio grazie ai GAP ora i GAP quando parlavano con le persone parlavano in termini molto concreti molto pratici dal punto di vista della azione politica non riempivano la propria propaganda di retorica inutile di retorica classica dell'anarchismo anzi nei pochi volantini che noi abbiamo pubblicato ma ne potremo trovare anche degli altri vedete quanto sono molto concreti nelle loro cose è un tratto distintivo della loro attività detto questo Totò mi imponeva un problema che io non ho citato all'inizio ma che è importante noi oggi possiamo ricostruire in maniera dettagliata questa storia grazie appunto all'ascito di Per Carlo Masini la biblioteca Serantini che è nata nel 79 che raccoglie materiali e che invita a sostenere nel limite del possibile abbiamo una nuova sede ora che purtroppo è chiusa perché la normativa non ci permette di aprirla ma vi assicuro che c'è tanto materiale però va sostenuta perché ovviamente costa tutto questo però Masini ha avuto un pregio fin dall'inizio rispetto a tutte le altre esperienze organizzative e associazionistiche i GAP decidono di tenere un proprio archivio organizzato con un proprio titolario cosa abbastanza strana per un movimento rivoluzionario voi sapete che per motivi di precauzione di sicurezza le carte non si tengono loro l'hanno tenute nascoste per molti anni l'hanno tenute e grazie a queste carte che oggi possiamo ricostruire in una maniera precisa la loro storia grazie al loro epistolario Masini in questo era uno che curava i rapporti con le persone in maniera incredibile lui era capace di scrivere lettere lunghissime io ricordo nell'epistolario c'è una richiesta di un militante che stava a centinaia di chilometri da casa sua che gli chiede che cos'è il materialismo storico e lui gli risponde con una lettera di 35 pagine spiegandoli per filo e per segno immaginate un uomo che lavorava tutto il giorno e che la notte si mette a scrivere 35 pagine non è di consegnargli la lettura di un libro per spiegargli perché questo era un compagno di base diciamo in maniera elementare cos'era il materialismo questa la grandezza di questo uomo bisogna riconoscere e anche l'intuizione che lui ha avuto del fatto che conservare le carte voleva dire mantenere un'identità e trasmetterla a questa identità il lascito che ci ha fatto non è che il fatto che noi oggi possiamo applicare questo metodo e creare di nuovi gap ma che da questa esperienza possiamo imparare tante cose e riflettere quello che io dico sempre smettiamola di leggere i fumetti sull'anarchismo c'è tanta inutile storia anarchica che viene prodotta che non serve a niente perché non è una storia non è un approccio critico non è un approccio che va a fondo dei problemi ma ci sorvola sopra coglie solamente gli elementi più folclorici dell'anarchismo quelli più che ci piacciono perché è anche vero che noi abbiamo bisogno di essere confortati nella nostra esperienza anche dal punto di vista letterario però vi ripeto sono tanti libri che potrebbero essere archiviati nei cestini e non lo dico per cattiveria lo dico perché è così libri di riflessione è difficile trovarli anzi se si può dire chi le produce la maggior parte è quella componente che è l'erede di quel gruppo volontà che GAP diciamo contestavano e che oggi purtroppo domina dal punto di vista culturale in Italia e io credo che dovremmo prendere le dovute precauzioni per leggere quei testi io avrei finito sono le otto mia moglie mi rivendica a casa saluto i partecipanti grazie a tutti grazie a tutti e a presto per organizzare qualcosa Totò c'è qualcosa in programma per il prossimo venerdì al momento no per il prossimo venerdì non abbiamo mai visto nulla ancora può darsi che esca qualcosa ma non c'è nulla di deciso sono le ore 20 sono le ore 20 ok vi saluto ringrazio Franco ringrazio tutti quanti ringrazio 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 ringrazio